L'amministrazione comunale di Caltanissette incontra le organizzazioni di categoria, le aziende e gli enti di tutto il territorio per definire la partecipazione a Expo 2015. Sì, oggi è stata proprio una chiamata a tutte le rappresentative, ma non solo quelle, ma anche ai cittadini, perché oggi diventa importante lavorare insieme per portare il nostro territorio all'Expo di Milano, perché il nostro obiettivo è proprio di andare a rappresentare in quell'occasione il nostro territorio, ma l'obiettivo principale naturalmente è quello poi di portare le persone che andranno a visitare l'Expo nel nostro territorio, perché l'obiettivo principe è quello di sviluppare la nostra attività nel nostro territorio, ma non solo comunale, ma tutto provinciale naturalmente. C'è stata una massiccia adesione? Sì, sì, sono contento, anche perché sto capendo che la gente, e non solo la gente, anche le organizzazioni, hanno capito che lavorare insieme vuol dire raggiungere un obiettivo, e questo obiettivo naturalmente poi ne prenderà sicuramente frutti tutta la cittadinanza e tutta l'economia. Peraltro la nostra realtà ha bisogno di una svolta sul piano economico? Sì, all'occhio di tutti, che effettivamente a livello economico Caltanissetta, ma anche tutta la provincia, in questo momento sta attraversando un periodo critico, però credo che già con l'occasione dell'Expo, ed essendo una provincia evocata sicuramente all'agricoltura, partire da questo vuol dire rimettere in moto tutta l'economia.